Salve a tutti amici delle storie e benvenuti in un nuovo video, finalmente siamo arrivati con lo speciale dei mille iscritti perché poco prima della fine del 2020 abbiamo superato questo oneroso scoglio io volevo ringraziare tutti voi, veramente senza di voi non ce l'avrei fatta, questa è una vittoria non solo mia ma anche vostra bene le banalità le ho dette tutte, no a parte scherzi è vero andiamo dritti al video, per lo speciale dei mille iscritti come vi avevo anticipato anche su Instagram avevo pensato a un Q&A per farmi conoscere un po' meglio, quindi vi ho chiesto di farmi delle domande sia su Youtube che su Instagram e oggi risponderò la prima domanda a cui vorrei rispondere è raccontaci un po' di te, domanda molto ampia, potrei iniziare a parlare a ruota libera e tra due ore staremo ancora qui quindi diciamo che per iniziare ho deciso che vi dirò tre cose random e probabilmente irrilevanti sul mio conto la prima è che sono una grifondoro con tutto ciò che ne consegue, sono esuberante, piena di progetti e nel mio piccolo perché no anche abbastanza coraggiosa non lo sconfiggerò Voldemort ma se qualcosa mi interessa mi ci butto a capofitto, non importa quanto sia spaventata ed è ciò che è successo anche con il canale sono anche impulsiva, testarda e dall'incazzatura facile, ce le ho tutte insomma la seconda cosa che vorrei raccontarvi di me è che ho deciso di aprire il canale Youtube perché non avevo amici con cui condividere l'ossessione tipica dei nerd per film, libri e soprattutto serie tv scassavo quindi non si può dire che cosa ad amici e parenti con pipponi che interessavano solo me e quando molto tardi devo ammettere ho scoperto che su Youtube c'era di più che solo musica e video scemi mi sono detta perché non provarci io mi sfogo e magari salta fuori anche qualcuno con cui condividere queste mie ossessioni e visto che abbiamo superato i mille direi proprio che ho fatto bene la terza cosa è che sono andata solo una volta a Lucca Comics, l'ho adorato e non vedo l'ora di tornarci così a caso, due informazioni utili e una random, direi che ci sta mi sento tipo gli ignoti dei soliti ignoti ok ma dai us andiamo avanti la seconda domanda è una domanda che mi viene rivolta molto spesso è quella che mi viene rivolta più spesso insieme alla prossima ovvero come mai questo nome per il canale, che cosa significa me l'avete fatta in più persone, a qualcuno ho anche risposto tempo fa su Instagram il tutto diciamo che parte dal lontano 2006 epoca di miti e leggende ormai lontana l'epoca di Veronica Mars, di Ossi e del mio teen drama preferito ancora oggi provo un profondo affetto per questa serie tv ovvero One Thrill vi dico solo che è l'unica serie di cui possiedo il cofanetto, lo so, sono vecchia comunque senza che la facciamo troppo lunga una delle protagoniste, Brooke Davis, in seguito ad una delusione d'amore decise di buttarsi sulla creatività e di lanciare la sua linea di moda chiamata Close Over Bross ovvero i vestiti prima dei ragazzi che altro non è che una variante del modo di dire americano Close Over Bross che vuol dire concettualmente le amiche prima dei ragazzi non vi dico che cosa significa letteralmente perché è un po' volgare e il tutto è partito da lì non ho avuto delusioni amorose ma era una sorta di omaggio ad una serie con cui sono cresciuta, ad un personaggio che adoro ed è anche un modo per dire che le storie per me vengono prima non dico di tutto ovviamente ma diciamo che viste le mie passioni e la volontà di diventare si spera una scrittrice le storie sono per me molto importanti e that's it, questa era la spiegazione un'altra domanda che mi fate spesso è come mai questo mistero nel farti vedere? ti farai mai vedere? la risposta è che quasi nessuna delle persone che conosco sa che ho questa doppia vita diciamo e l'anonimato mi permette di proseguire senza pensieri nella mia carriera da content creator in questo modo infatti mi sento creativamente molto libera e ho il timore che mostrarmi possa in qualche modo limitarmi nel modo di esprimermi o nelle interazioni anche che ho con voi banalmente in generale sto valutando che poi secondo me è la domanda che si dovrebbero fare tutte le persone che iniziano ad avere una pseudo carriera diciamo sul web che vogliono comunque intraprendere una strada sul web è se voglio o meno avere un'immagine pubblica nell'internet sto quindi facendo delle valutazioni in merito e comunque come ultima cosa i video che faccio in generale mi piacciono molto anche se sono un incubo da montare quindi a prescindere da se dovessi o meno decidere di mostrarmi i video penso che rimarrebbero comunque così alla domanda ti farai mai vedere? non lo escludo assolutamente qualora ad esempio la carriera su youtube dovesse andare talmente bene da diventare un lavoro sicuramente mi farei vedere ma non escludo che questo possa accadere anche molto prima magari domani mi sveglio e decido di farmi vedere chi lo sa qui abbiamo una domanda personale e una più professionale professionale iniziamo da quella personale hai mai avuto relazioni importanti? come sono andata a finire? ti hanno mai ispirato su qualcosa che hai scritto? ok la risposta è non le ho avute in passato fino ai 18 anni più o meno ho avuto solo cottarelle niente di serio preferivo diciamo in generale gli amici alle cose romantichelle a 18 anni però mi sono fidanzata con il mio migliore amico e stiamo tuttora insieme quindi direi di sì ho una relazione molto importante in corso se questa mi ha mai ispirato per qualcosa che ho scritto ovviamente la risposta è di nuovo sì come praticamente tutte le cose significative della mia vita finiscono dritte dritte in ciò che scrivo la domanda invece un po' più professionale è i tuoi momenti periodi di scrittura avvengono più o meno costantemente o sono influenzati dal tuo umore oppure anche da una mancanza di tempo o voglia perché magari vuoi continuare a leggere un libro seguire una serie o anche riposarti dopo il lavoro la risposta è che non sono una persona costante in generale soprattutto per le cose che sono di mia completa gestione come ad esempio la lettura o la scrittura oscillo molto tra periodi di intensa produttività e periodi di down totale me la cavo meglio quando ho delle scadenze come ad esempio può succedere a livello lavorativo o anche con lo stesso youtube e in questo caso riesco a mantenere una certa costanza mentre per quanto riguarda la scrittura devo dire che oscillo tantissimo tra il scrivo due capitoli al giorno al non faccio niente ciò che mi influenza non sono tanto gli impegni perché riesco abbastanza ad incastrare le varie cose quanto sicuramente l'umore altra domanda apprezzo molto il tuo canale grazie mille e sarei curioso di una cosa il tuo modo di analizzare serie o film si basa su una sorta di impronta personale oppure lo fai applicando un metodo che magari stai sviluppando una curiosità così grazie sempre grazie a te non uso alcun metodo non sono una tecnica né un'esperta di cinema su questo sono sempre stata abbastanza trasparente sono solo una tizia che ama le storie come voi e che ne ha divorate a tonnellate quindi direi che le mie analisi sono molto personali sono più dei commenti più che delle vere e proprie recensioni valutano elementi oggettivi ovviamente come la struttura narrativa i personaggi, gli intrecci la resa visiva con un tocco ovviamente personale legato ad un flusso di coscienza mio e ad una sensibilità del tutto personale altra domanda come nasce la tua passione per la scrittura e a cosa ti ispiri per le tue opere complimenti per la fanfiction sui malandrini e per il tuo libro fantasy li adoro entrambi lei è una delle pochissime fortunate spero fortunate che hanno avuto modo di leggere il mio libro allora la mia passione per la scrittura è nata molto presto è nata alle elementari ho iniziato con poesie o scene ho continuato con fanfiction di Harry Potter senza sapere che fossero fanfiction per quanto mi riguardava stavo scrivendo il nuovo libro di Harry Potter anzi se un giorno troverò il coraggio vi leggerò un estratto di quell'orrore che era Harry Potter e la casa misteriosa una cosa del genere comunque durante l'adolescenza poi mi sono buttata sugli aforismi tormentati e su un paio di tentativi di romance scadenti finché poi nel 2014 è nata l'idea per il mio attuale libro che ormai è terminato e che devo semplicemente decidere di buttare in pasto agli editori questo è un po' un excursus molto breve su come è nata ed è voluta la mia passione per la scrittura a cosa mi ispiro invece direi a tutto a tutto quello che leggo che ascolto, vedo, provo, penso e sogno a qualsiasi cosa veramente l'ispirazione può nascere nei luoghi più inaspettati giochi e videogiochi? no ci giocavo quando ero un po' più giovane ma anche allora non sono mai stata una giocatrice accanita una gamer accanita giocavo principalmente a tre cose ovvero Harry Potter, The Sims e Kingdom Hearts che mi è rimasto francamente nel cuore la storia è stupenda nonostante tutte le retcon al momento non gioco più da anni ma sono prontissima a comprare a giocare con il nuovo gioco di Harry Potter ovviamente se potessi scegliere di vivere in un film o una serie tv quale sarebbe e perché? la mia domanda preferita tra quelle che mi avete fatto ma anche la più difficile banalmente direi Harry Potter so che non è una risposta particolarmente originale ma il mondo di Harry Potter mi piace tantissimo e poi siate onesti chi non voleva ricevere la lettera per Hogwarts andiamo anche se non mi dispiacerebbe ritrovarmi in un film degli anni 80 tipo Ritorno al Futuro, Ghostbusters, Igunis, Breakfast Club o cose del genere quelle vibes mi mettono sempre di buon umore e quindi per lo stesso motivo direi anche Stranger Things anche se forse il sottosopra potrebbe essere un problema ci sono sicuramente risposte più intelligenti di queste ma al momento non mi viene in mente di meglio e arriviamo all'ultima domanda ovvero serie tv terminata o cancellata che vorresti ritornasse? sicuramente tutte le serie del mio passato a partire quindi da One Thrill The Little Liars Una Mamma per Amica che con quel seguito che ci ha dato Netflix non ha concluso proprio niente Buffy anche mi piacerebbe rivedere quindi tutte le serie del mio passato in generale che hanno cancellato sicuramente The Society che era molto carina e hanno fatto solo la prima stagione mi sarebbe piaciuto vederne il continuo stessa cosa per Mindhunter che purtroppo è stata sospesa a tempo indeterminato quindi spero di riuscire a vedere prima o poi una terza stagione e stessa cosa anche per True Detective che non so se ci sarà mai una quarta stagione ma sarebbe interessante vedere che cosa si inventano le mie preferite sono la prima e la terza la seconda non mi aveva fatto impazzire però è un prodotto super top quindi sicuramente anche quella bene ragazzi queste erano le domande che mi avete fatto alcune le ho messe un po' insieme visto che erano molto simili spero di essermi fatta conoscere un po' di più e sicuramente ci sarà molto tempo per conoscerci ancora meglio grazie mille per le domande grazie per avermi accompagnato e per far parte di questi primi mille iscritti sono contentissima per come sta andando nel canale spero che la nostra piccola comunità possa crescere sempre di più se vi va potete anche dare voi qualche risposta alle domande che mi sono state fatte soprattutto le ultime due sono molto carine secondo me se vi va di rispondere io sono curiosa di sapere anche le vostre risposte dove vi piacerebbe vivere in quale film o serie tv vi piacerebbe vivere fatemelo sapere per oggi è tutto noi ci vediamo si fa per dire al prossimo video e ciao